Mi raccomando, amici ed amiche, mettete i bambini a letto, mettete i bambini a letto, i minori di 18 anni devono stare lontani, chiudetevi voi in una stanza, chiudetevi in bagno, perché adesso su questo canale andrà in onda, per la prima volta al mondo, uno strip integrale di naso, fiato alle trombe Turchetti. Oh no 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 Oh no Tipo Gugliani E' guà! Naso integralmente nudo! Adesso potete fare tornare i bambini E' guà! E' guà! E' guà! E' guà! Così natura!